E' la retina Erika Voldi Miss Reginetta d'Italia Oger, originaria visti in a lunga o ormai a retina di adozione, istruttrice di fitness e personal trainer, nella finale di Riccione Erika ha sbaragliato le 50 concorrenti in lizza per conquistare la fascia junior dedicata alle aspiranti Miss di età tra i 30 e i 40 anni nel concorso nazionale diretto da Alessio Forgetta. Redico questa vittoria a me stessa, rappresento una mia grande rivincita dopo una malattia dalla quale è stato difficile riprendermi sia fisicamente che psicologicamente e a ricominciare a vivere bene con me stessa e con gli altri, ha detto Erika una volta sul podio. Ha poi aggiunto, voglio dire a tutti voi che nei momenti più difficili non dobbiamo mai mollare, la vita può riservarci delle sfide ma è proprio in quelle che ritroviamo la forza per rialzarci e brillare. Credete in voi stesse e non smettete mai di lottare, dopo il buio c'è sempre una luce pronta a splendere, io ne sono testimone. Sul palco assieme Erika anche Matilde Brandi che ha speso parole sui diritti delle donne e contro la violenza di genere. Ciao, sono Erika Boldi, ho 31 anni e sono felicissima di aver vinto questo titolo nazionale di Miss Reginetta Categoria Over. Un saluto a tutti i telespettatori di Arezzo TV. Un saluto a tutti i telespettatori di Arezzo TV. Grazie a tutti i telespettatori di Arezzo TV. Grazie a tutti i telespettatori di Arezzo TV.